Banca Etruria e MCL promuovono il progetto laboratoriale Fisco e Legalità, portato avanti per il terzo anno consecutivo dall'Istituto Buonarroti di Arezzo. I ragazzi imparano, dopo aver fatto un approfondimento in materia IRPEF, come realizzare il 7.30, quindi vengono visti i modelli, le istruzioni per la compilazione, i vari quadri e dopodiché viene appunto il momento della prova. E poi del giorno effettivo in cui i ragazzi, quindi questo mercoledì 24 aprile, faranno il 7.30 a scuola. Qui in Aluamagna sono state allestite cinque postazioni in collegamento grazie al CAF MCL, dalle quali postazioni gli alunni potranno ridigere dei 7.30 reali. Il nostro CAF ha fornito alla scuola il software per poi riuscire a compilare i modelli 7.30 da parte dei ragazzi, che inizialmente sono stati, diciamo così, informati su come il programma funziona e che a sua volta, attraverso delle lezioni mirate da parte dei loro insegnanti, hanno capito come si compila la dichiarazione 7.30. E questo è solo l'inizio di un progetto ben più ampio, di cui un altro momento importante sarà quello del 17 maggio, data in cui gli studenti del Buonarroti saranno impegnati in un grande convegno, tutto dedicato alle problematiche fiscali con simulazioni di veri e propri processi.